La noia mi ha perseguita, soffro la domenica steso sopra un libro del dance Cambio di programma, voglio donne per il doma sopra un tavolino di un pub Credo di essere già abbastanza fuori per brindare con te Chia, white cake, centone, credo che non ce la fa Birra Polo fa, tutti insieme al bar Una grande amica Lucia non deve diventare una vostra antagonista ma l'esempio di come si può diventare Volete dimagrire, volete farlo col sorriso sulle labbra? Per adesso però basta, non può mica mettersi a vedere le televendite tutto il tempo, sennò la gente scappa Addirittura Dunque mica sta guardando le televendite, sta guardando Lucia lui Bella, sorridente, peccato che non sorrida più a lui e da parecchio tempo Sta ancora così per Lucia? Ma per forza, lui stava con Lucia Ma lei si era stufata da un pezzo ma non aveva il coraggio di mollarlo per non rimanere sola Appena ha conosciuto un altro l'ha sganciato ed eccola là È uno schema collaudatissimo che ha un suo nome specifico La sgualdrinaggine No, no, sbagliato Questa è la tecnica dell'aliana Saltare da un fidanzato all'altro senza mai fermarsi Per non precipitare nell'abisso della solitudine Ma noi, le cose non sono così I ragazzi della nostra età sono tutti singoli Non ci sono tutti questi fidanzamenti Vabbè, ma perché voi in Svezia fate all'amore ugualmente? Allora ti chiami io, come al solito, eh? Brava Ciao Oh, sto studiando Ho capito che qua non si riesce a studiare Io non me ne torno a casa Scusa, fra ma Perché non provi in biblioteca? Sei pazzo Peggio dei giardini È pieno di linguagliusci sessuali Monicuccia Tesoro Come stai, bella? Anche gara Sì, sì che stai portare Dovevamo provare questa sera Ma non ci sono più Andarmi da me stasera? No, Leo, mi dispiace Lo sai, devo studiare Anche al GAMF ogni tanto ci tocca, eh? Ogni volta che vedo tuo fratello E fra che si baciano Mi viene l'appello doc Beh, vabbè A me invece ne viene da vomitare Tu dici così? Perché Lucia Oh, no, no Sta appesa un'altra liana Ma dai, non dirmi che non rimpiangi Quei baci Quelle tenerezze Quell'intimità E per non parlare del rispetto Della sincerità Pronto, Sabri? Non lo so che era questa sera Però No, è che C'è il funerale di mia nonna Di sera Perché di sera? Perché Era sonnambula, nonna Eh sì Gli piaceva tanto la notte Tanto È stato il suo ultimo desiderio Capito? Dai, magari ci sentiamo più avanti Quando sto un po' meglio, sì Grazie, veramente grazie Ciao, eh Ciao Ciao Perché stavamo a parlare qui, no? Della sincerità? Ah, della sincerità È parecchio meglio La dovuta del bar Già, già Ecco, bravi Allora, la prossima volta Andate a mangiare al bar Invece di scroccarmi la colazione Senti, ma Fra Dov'è? È già all'università Ah Ma la mia ragazza Quando arriva? Poi Eh beh, non sai mai niente Non sai Non sai quando arriva Non sai da dove viene Non sappiamo se è figa Ivan Ti prego Fai qualcosa Tira di su Se no questa povera ragazza Pensarà di essere finita in comunità Guardaci Allora, con entusiasmo Dai, su Se non me la menate sto bene ora Me ne sono fatto una ragione Oh, non so se è quella giusta Scusa Hai trovato Lucia a letto con un altro Nella posizione della mucca pazza Cos'è che non hai ancora capito? Perché parlava in francese Senti, ma quando tu sei entrato, no? Almeno, cioè Si sono fermati? Ah, con lui ci Per cambiare posizione Guardaci Io veramente andiamo a fare qualcosa Batti a rimettere a posto Se no questa pezza c'è agli amici Sfigati Grazie Voi chi siete? Ciao, io sono Nick Stefano Sono Mattia, molto piacere Piacere, Beatrice, ma Ci deve essere un errore Perché mi era stata assegnata una camera da... No, no, no Nessun errore Loro non vivono qui No, no Nel senso che Cioè, noi abitiamo Qui di fronte, no? Infatti Se c'è qualche volta E magari ti senti che ne sono un po' sola Volesti, eh? Io sto bene, sola Sì Infatti la mia camera doveva essere singola Ma è evidente che si sono sbagliati Ah, camera singola È la metà del trenta, eh? Quasi, quasi Ma avete il numero della portineria Così almeno risolvo la cosa E... no No Ciao Sono viva Ma che ti è successo? No, è che l'hanno mollato Cioè, ci sono mollati di comune accordo Però, per pochissimo Lei l'ha mollato prima di due, capisci? Mi dispiace, poverino, ma... Ce l'avete questo numero? No? Perché? No Non ci crederete mai Quell'infame Anche lei è mollata di comune accordo? Vicente Ha deciso di tenere un seminario in California Così il mio appello di luglio stato E anche il mio posto allo studentato A meno che non dia l'esame dopo domani Minchia Non era il quarto esame che dovevi dare? Eh, sì Ma per i miei genitori Non per l'ufficio del diritto allo studio Raga, qui si mette male No Anche per me Buongiorno Buongiorno signorina Sono qui per contestare la mia sistemazione presso lo studentato di Via Zanardi 33 È evidente che si tratta di un errore Perché ho diritto a una camera singola E invece mi è stata assegnata una tripla Io l'aiuterei molto volentieri signorina Ma... Ma? Ma l'ufficio chiude alle 13 Ma sono le 13 e un minuto Appunto Non vorrà mica farmi mangiare la pasta scotta Mi ero ottenuta un mese di tempo per ripassare E adesso mi tocca darlo fra due giorni Io sono in panica Poi quello è in fissa con le date Io con le date sono zero Come faccio? Ma c'ha letto Ma non lo farei mai E neanche tu se lo vedessi in faccia Forse ma se rischiassi di perdere il posto allo studentato Lo troverei molto affascinante C'ha assolutamente ragione Anne che bacio a lei Ma scusate ma bisogna vedere se lui ci sta però Ci sta, ci sta Mi sa che l'ho scordata a casa Non è che si potrebbe eh No Mattia Niente tascera Pagamento in contanti Che mese è chiuso proprio lo stomaco L'improvviso non c'ho più fame Mangerei domani io Eh ragazzi c'è Bea Raggiungiamola Anne che quella è là Perché vuole stare per i fatti suoi Eh? Però è figa eh Dice Non ce vanno Ma se non è di carne Di che cos'è? Di soia Ma il sapore è lo stesso No scusa Dove metterli con questa cotoletta Ma forse scherzi Non riuscirei a mandare giù neanche un pezzetto Ma perché? Non è male Ma fa male Le fa un amico di mio padre Ci ha fatto i miliardi Per forza non le costano assolutamente niente Ci mette dentro di tutto Unghe, denti, ossa, neve Posso? Vai vai Ho deciso Ci vado a letto Ma con chi? Non puoi vedere le cotolette? No no Prendere buti Decenti di pop art Ma ho capito chi è Barbuti È quello che ha vinto il premio Indiana Jones per il coraggio Oh, gliel'abbiamo dato all'unanimità Quando abbiamo saputo che è andato a letto con quella lì Maria Assunta Catozzi Che sta lì alla 56 del secondo piano Stanza singola guarda a caso Esatto Che memoria Chi è Maria Assunta Catozzi La donna più brutta del mondo Dice che per battezzarla L'ho chiamato l'esorcista Però non se ne senti Ragazzi C'ha gli stessi baffi di Mattia È davvero così brutta? Se ne accorgono anche nella jetline Ero ubriaco La tesi contro la clonazione dei mammiferi Già assegnate tre esami alla fine Ormai pensavo di laurearmi entro l'anno Poi un giorno leggo un'intervista del mio professore Che si rimangia tutto quello che aveva detto Fino al giorno prima E si schiera A favore della clonazione dei mammiferi Beh allora Ha cambiato idea Anche che riesce a farlo anche 50 volte in un giorno Per me non esiste Non su una questione del genere Ci deve essere un limite morale anche per la scienza Non basta la vivisezione Adesso vogliono clonare gli animali Per farci dei pezzi di ricambio Io mi sono iscritto all'università Per cambiare ciò che non mi piace del mondo Vuoi no? Sì Io vorrei cambiare il calendario del campionato Rimettere tutte le partite la domenica Perché dare la formazione del fantacalcio È diventato Vabbè Ma che cambiare il mondo dico io Io qui cambio aria se non passo l'esame Ma dai fra è solo un esame Con l'unica differenza che non sei preparata Se ti bocciano torni a casa dai tuoi E' come un milla Esci fuori tesserina bella Dove stai? Dove te sei messa? Che è? Di chi sei? Che se io non ti trovo? Papà non mangia Ma il tuo fidanzato come si chiama? Giorgio E cosa studia? Lui si è laureato cinque anni fa e adesso lavora nell'azienda del padre Ma non mi va di parlare di lui Sai sono cose un po' personali Allora? Siamo un po' sopra i valori E di quanto? Ma non ho molto Ma allora con sta camomilla Su ragazzi dai Su bevi dai bevi Grazie Prego Dai adesso vieni e andiamo a ripassare Dai vieni dai Sbrigati Vedrai Ti troverai bene con l'ora Mi aspetto dal domani Il sole e il pazzo no Ma in fondo io ci spero ancora Che tu ci sia nel mio domani E se ti incontrerò Spero di sfiorare le tue mani soli e pure in mezzo a gente e te riscaldati dal calore di un abenzione in te se mi vuoi domani sarà un giorno migliore vedrai se mi vuoi domani sarà un giorno migliore vedrai impossibile signorina i computer non sbagliano mai ah no? e allora i missili intelligenti che abbattono le scuole e gli ospedali? non saprei cosa rispondere non è di mia competenza però è di sua competenza assegnare le camere singoli in base alla media degli esami sostenuti sbaglio? lei non sbaglia ma 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 neppure i computer tutto bene? sì se mi concentro c'è la vostra volta brava sai a concentrazione è la cosa più importante pensa che io per concentrarmi devo essere da sola in totale silenzio altro che biblioteca io non esisto è come se non esiste fra tranquilla è tutto a posto guarda ti interrogeranno diciamo intorno al mezzogiorno magari anche le due no? quindi se cominci a studiare adesso hai un giorno pieno giusto? se ti metti a dormire magari diciamo tre ore no 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 forse è meglio due ore e non ti distrai guarda io sono convinto che tu hai il tempo di ripassare tutto il programma si sta provando ma se vado avanti così non ce lo farò mai ma se fai così è grave tu invece devi crederci devi essere convinta training autogeno tu devi respirare no? che dico devi concentrare scolta fra c'ho un metodo infallibile il risultato è sicuro la lettura veloce ma chi è tu? aspetta eh la camminata lenta con stampella pure io a scienze della politica 2 no? mi sono pure ingessato il braccio e ho preso 27 non ho studiato adesso basta se non vi levate tutti fuori dai piedi non ci sta più dentro ok? fra ti giuro guarda non faccio niente fuori! te lo devi respirare fuori! ma se non respiri no frenda autogeno hai lasciato la scuola a 14 anni per seguire il cuore dici di vivere per suonare ma non ti è ancora riuscito di suonare per vivere dici di lavorare e che fai? vendi enciclopedie? ne hai mai venduta una? per suonare, per lavorare, per vendere bisogna pensare, determinare e insistere tu non usi la mente e non hai coglioni risultato? zero adesso ti sei pure perso la tessera della mensa e pretendi che tuo fratello che lavora e studia e dà gli esami con puntualità e profitto per tenerti il posto allo studentato si sbatta per fartene un'altra ma guardati intorno Mattia sei un fallito si lo so, lo so c'hai ragione però con la tessera della mensa come facciamo? che sono cavoli tuoi fratellino? guarda fra raga lasciatemi sola devo studiare e poi è uscita pure lei sei andata a ripassare da Lucia no 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 la tua Lucia è la sua compagna del dance wow piccolo mondo la Ligia non l'ha ancora stata figurati quella qua non ci rimane di sicuro ma guarda che modo di comportarsi il fatto che stiamo all'andana è legittimo è nel suo diritto però visto che c'è potrebbe anche essere un po' più simpatica invece quando parla alla mina e basta ricordate la storia sul cambiare il mondo perché sul fidanzato? sono cose personali per me lei non ha amici mi pare proprio non sentirne la mancanza fra stai ripassando? raga mi vuoi interrogarmi? raga mi vuoi interrogarmi? vorrei proporle questa fantastica enciclopedia in soli 24 volumi lei avrà a sua disposizione una fonte inesauribile di conoscenza la sua cultura personale è importante no grazie buongiorno mi chiamo Mattia volevo proporle questa fantastica enciclopedia buongiorno buongiorno mi chiamo Mattia no buongiorno no buonasera 1964 vabbè no fra e se non sai quando è morto Andy Warhol partiamo malissimo eh beh in effetti Stefano ha ragione come se io all'esame di letteratura italiana non sapessi la data nascita di di come si chiama quello che ha scritto la Divina Commedia? no raga non c'è niente da fare io le date non me le ricordo per buttimi in lo sacro ma scusa fatti i bigliettini no? è vero perché non ci abbiamo pensato prima? è un esame orale no ragazzi io le date non me le ricordo anche il mio papà era così non si ricorda neppure la data del suo matrimonio ma guarda Frank io avevo questo problema però l'ho risolto ho associato ai numeri i giocatori dell'Italia campione del mondo che sarebbe? se mi devo ricordare nel 1968 per esempio è facile uno zoffo, nove rossi, sei scirea, otto tardelli qualcuno ha un tavolo non hai mica bisogno sai scusa tu non sei a memoria tutti gli interni dello studentato ai relativi inquilini? si ma non arrivano al 1968 certo però si tratta di un esame d'arte contemporanea no? quindi tutte le date inizieranno con il 1900 si? quindi 19 che coincidenza! quindi basta che ti ricordi gli altri due numeri e le associ i nomi di chi vive in quella stanza mi sembra un po' complicato eh no, no te lo dimostro se io ti dico 87 Bubba e Piermaria vedi? quindi quando ti devi ricordare la data di morte di Andy Warhol basta che ti ricordi di Bubba e Piermaria perché lo conoscevo no? 1978 si brava non ne sbagli più una un mito si però attenzione eh questo potrebbe essere un colpo di fortuna dunque si a quando risalgono le prime tele di Andy Warhol raffiguranti le bottiglie di Coca Cola? Ettore Setti che fa il dj sta nel... la 60 la risposta è 1960 un mostro eh dai dammi un panino c'ho che ampi della fame guarda quello che sta da quanta è che sta la mese, due eh? ma può pagare il fitto e premitelo però che palle che sei e lei che mi dà quello lì? che non c'ha la pasta d'oliva e poi ci si mette anche mio padre voleva prendermi un appartamento qui in centro a Bologna ma gli ho ripetato beh certo scusa mi sa che non ho capito probabilmente non aveva una jacuzzi sì queste sono cose che fa di cazzare eh mio padre un bel giorno ha preso e se n'è andato via con la segretaria oh io non gliel'ho mai perdonata e da quel momento lui cerca di comprare la mia stima però costa troppo anche per uno ricco come lui certo che con la segretaria è un po' banale eh un po' più di fantasia che ne so sai come al vostro coso non si comanda ma si ubbidisce Mattia chi di voi è Mattia Marani? eh lui sono io che c'è quindi questa tessera della mensa è tua oh e lei grande tu non sai quanto l'ho cercata ma dove l'hai trovata? oh ma che fai? oh l'ho trovata nel letto della mia ragazza allora finiscilo la prossima volta che ti vedo intorno a lei ti sparecchio la faccia ti ho fatto male? è bene non m'ha fatto guarda misura ma... sono veramente nei guai seri vabbè ma adesso cosa fai ti lamenti? ne avrai altre dieci almeno ma ho capito ma chissà qual è la ragazza di questo metteci questa grazie ah ragazzi ma come lo vedete un bel minestrone? dai fermi non mi fido di voi in cucina io ma che se lo mangiano? insomma Bea se non mi avessi dato una mano tu stanotte anziché dormire nel mio letto mi toccava quello di barbuti ciao sono Rebecca scusate l'ora ma sono passata prima e non c'era nessuno sto cercando una ragazza c'è stato un errore con le camere ce le hanno scambiate sono io cioè ciao sei tu che sei finita nella mia singola ah si ci stavo bene nessuno che ti rompe nessuno che ti ascolta quando telefoni ti alzi quando ti pare sinceramente mi dispiace di averti incontrata a me no così risolviamo subito la cosa senti se non ti dispiace io rimango qui con i miei amici ma sei sicura? si tanto ormai ho già disfatto le valigie quindi non ci posso credere una singola con 24 di media una singola che culo che culo una singola una singola che culo Sì!